Petrarcone incassa l'appoggio di Zingaretti. Il governatore del Lazio ha raggiunto Cassino per sostenere il tour elettorale del sindaco uscente a pochi giorni dal balottaggio. Una collaborazione, quella tra comune e regione, molto proficua negli anni scorsi che Zingaretti intende continuare, appellandosi così ai cittadini. Abbiamo dato a Cassino quello che era giusto dare a Cassino dopo anni di assenza, di latitanza e abbiamo dato quello che era giusto dare a una giunta comunale che ha salvato Cassino. Non c'è dubbio che Cassino nel Lazio è una delle giunte che di più ha combattuto. Nel parterre presente anche il presidente della provincia Antonio Pompeo, l'assessore regionale Buschini, la senatrice Maria Spilabotte, la consigliera regionale Daniela Bianchi e il segretario provinciale del PD Simone Costanzo. Un centrosinistra che dunque sembra volersi ricompattare attorno al nome di Petrarcone. Quindi è un grande onore averlo qui e sono convinto che lui ci porterà anche delle novità per il nostro territorio e soprattutto la possibilità di intavolare altre iniziative ed altri progetti per lo sviluppo di questo nostro bel territorio. Ecco entrambi state battendo su un tasso importante, continuità. Io sono al primo mandato, abbiamo fatto tanto per questa città e in questa città, ora ci sarà il completamento, la consagrazione con questi nuovi cinque anni.